Italiane, prima tappa ieri a Cagliari, tanti temi toccati dagli scontri all'Olimpico alla proposta di uscire dall'Euro. L'inviata Monica Gianotti. Ho visto la morte della Repubblica, ho visto morire così in una partita di calcio, ho visto morire con Jenny, Jenny a Carogna e sugli spalti invece c'era Renzi, Renzi a menzogna, Renzi a menzogna. Parte da Cagliari, il tour elettorale di Beppe Grillo, è in piazza dei centomila ad ascoltare i leader 5 Stelle, ieri c'erano migliaia di persone ed è proprio in piazza che Grillo sferra gli attacchi più forti al Partito Democratico e al Premier. Il PD ha trasformato una norma giusta, il 416 bis, in una norma sbagliata, il 416 ter, dice Grillo riferendosi alla riduzione di pena per il voto di scambio. Sono dilettanti allo sbaraglio e ancora Lebetino vuole fare il simpatico, non lo sopporto più, queste persone vanno spazzate via. Dal palco Grillo torna ad attaccare le banche, il debito del Giappone dice in mano a banche statali e lì il PIL è tra i più alti del mondo. Il nostro invece è delle banche straniere che ci tengono in agonia perché non gli conviene farci fallire. Poi la promessa, faremo un referendum sulla moneta unica. Me ne batto i coglioni se non è costituzionale, lo faremo lo stesso e vedremo e decidere il popolo italiano se uscire o no dall'euro. Lo decide il popolo italiano, non dei cazzoni di partito. Nel mirino di Grillo anche i costi dell'Europa, gli imprenditori uno su tutti, De Benedetti, le ideologie. Eravamo tutti comunisti, dice, ma il comunismo ha fallito. Annuncia, se vinciamo tagliamo i fondi per l'editoria e aggiunge abbiamo l'informazione più schifosa d'Europa. E infatti a fine comincia nessuna parola con i giornalisti, ma saluti quelli sì in direzione delle telecamere. Poi come da copione via in macchina verso l'appuntamento della prossima tappa del suo tour.